Lo scontro diretto non regala né fughe né ricongiungimenti, ma puro spettacolo e tanto divertimento calcistico. SFF Atletico e Cregas creano, sbagliano e segnano, si regalano le opportunità di essere contenti di un buon punto e al contempo rimuginare sulle occasioni fallite per poter tramutare il big match in qualcosa in più di un X in schedina. L'avvio è subito un concentrato di emozioni. Dopo appena 9 minuti Rocchi ruba un gran pallone e lo serve a tornatore sulla cui sponda Nani cerca l'immediato vantaggio ma finisce col mettere in moto zazzaro. È un primo squillo al quale la Cregas prova immediatamente a rispondere chiamando nota a un'uscita provvidenziale per evitare che dalla parte opposta del campo sia Mortaroli a timbrare l'1-0. Si resta in equilibrio ma l'SFF sembra avere qualcosa in più. Al diciannovesimo il vantaggio arriverebbe se la traversa non fermasse la punizione di Sevieri e la bandierina non invalidasse la ribattuta di Esposito. È un'altra carezza al gol come quella che tornatore fa poco dopo scontrandosi però col secondo decisivo intervento di Zazzaro. In campo c'è tanto SFF ma anche la Cregas non risparmia minacce. Al 42esimo l'occasione buona capita sul piede di Mortaroli al quale nota risponde bene congelando 1-0-0 che qualche istante dopo manterrà anche Zazzaro. Il minuto è il 44 quando Morini si libera in area e calcia a botta sicura. Sarebbe gol se il numero 1 di Centioni non estraesse dal cilindro un'altra risposta da grande portiere mettendo sopra la traversa l'assolo dell'ex viterbese. Il vantaggio dei ragazzi di Scudieri sembrerebbe però nell'aria ma la somma delle occasioni sprecate partorisce un prodotto piuttosto diverso. In pieno recupero Gallaccio brucia la difesa dell'SFF e supera l'uscita di nota cercando la porta vuota. Esposito e abbondanza si lanciano sul pallone. Il primo ci arriva ma quest'ultimo li stop e rilancio facendolo scivolare in rete. Eccolo il gol ma a trovarlo sono gli uomini di Centioni. Si va a riposo così ma la situazione non durerà pertanto. Lo 0-1 tiene appena 4 giri di orologio poi Tornatore cerca Morini ma trova la sfortunata e decisiva deviazione di Cupelli. Poco cambia perché Zazzaro questa volta può veramente poco se non vedere il tocco del compagno infilarsi alle sue spalle. Il pari sembra essere uno spartiacque e se la Crecas prova subito a rifarsi con Dovidio. Il successivo a fondo dell'SFF si traduce nel sorpasso. Cross dalla sinistra per Tornatore che vede l'occasione per scalare posizioni nella classifica a marcatori e non se la lascia sfuggire. Arafando il 2-1 e il suo decimo gol stagionale. Sembrerebbe finita ma con lo scorrere dei minuti la capolista cala e la Crecas riprende la marcia. Al 33esimo Pasquo cerca Gallaccio ma trova la presa sicura di nota. Un minuto più tardi il numero 9 prova invece a fare tutto da solo. Chiede un calcio di rigore ma riceve solamente un giallo per simulazione. Poco cambia perché l'occasione di riscattarsi è lì vicino. Minuto 37 Petroccia mette sul primo palo un corner perfetto. Gallaccio lo arpiona e lo gira in rete. A grande attaccante risponde grande attaccante e si torna ancora in parità. Ma la fine è ancora...